Monta l'attesa per la sfida di domenica prossima del Vincenzo Palesti, si tratta del big match della quarta giornata di ritorno dal campionato di eccellenza. Il Gelo ospiterà la capolista San Cataldese, le due squadre in gradatoria sono divise da tre punti, i Verdi Amaranto comandano a quota 38. Il risultato è importantissimo, l'obiettivo dichiarato dai biancazzurri dal tecnico Toto Bruculeri è uno solo e si chiama vittoria. Così facendo i Gelesi conquisterebbero la vetta proprio a pari punti con i Nisseni. Ecco perché è stata definita giustamente la partita delle partite. Un treno che la truppa tanto cara al presidente Angelo Tuccio non può farsi scappare. I giorni che stanno anticipando la vigilia della gara sono stati contrassegnati da un clima burrascoso a seguito di un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook della San Cataldese in cui la dirigenza lanciava strali e dubbi sulla direzione di gara di domenica scorsa facendo riferimento ad una imposizione voluta da qualcuno. Immediata la replica del Gela che ha investito di quanto accade la Lega Nazionale Direttanti Comitato Regionale Sicilia per le eventuali azioni sul piano sportivo mentre invece sul piano penale il club biancazzurro chiederà l'autorizzazione così come previsto dalle norme vigenti con lo scopo di poter procedere presso l'autorità giudiziaria ordinaria per poter difendere la propria onorabilità sportiva gravemente resa dal comunità della San Cataldese. Poi la stessa dirigenza Nisseni ha diffuso un comunicato in cui è inteso che dire che non sono mai state fatte accuse rivolte alla società del Gela Calcio egregiamente preseduta da Tuccio, persona molto stimata tra i dirigenti Verde Amaranto. Il comunicato divulgato dopo la partita contro il Mazzara era solo ed esclusivamente riferito al modo molto discutibile, provocatorio e sospettoso che la terna arbitrale ha adottato per dirigere la gara. Nella stessa nota la dirigenza ha invitato tutti a placare gli animi e far in modo che l'incontro di domenica prossima sia una vera e propria festa dello sport E sarà una festa dello sport, aggiungiamo noi, perché a Gela non è mai accaduto nulla e mai nulla accadrà. Chi sarà più bravo alla fine vincere la partita, anzi la madre di tutte le partite, perché lo ricordiamo in pario c'è la vetta della classifica.